Cosa le dice? Come si manifesta? È molto simpatico, è anche molto preparato. Certo, e beh ma non mi interessa per te. Ma le voglio bene a questa signora. Grazie, anch'io. Allora, Paola, che dice la Madonna? Ha fatto delle rivelazioni anche a te. Per quanto riguarda il coronavirus e le guerre, anch'io lo sapevo. Ma non adesso, ancora vent'anni fa. Addirittura? Vent'anni fa. Più di vent'anni fa. Ho i testimoni, quindi. Non posso perché non è qui adesso vicino a me. Eh, comunque, sì 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 sì. Tanto è vero che quando si è realizzato, io sono rimasta malissimo perché dico, ma insomma, ecco. La Madonna aveva detto che sarebbe venuta una pestilenza, diciamo, se vogliamo, è come fosse una pestilenza. Una malattia incurabile, una malattia che non ci sarà nessuna cura. Non è incurabile, è curabile. Adesso, ma non inizi. E poi sarebbe... Ma facciamola terminare, Alessandro. Io voglio capire. Tra l'altro io so che la tua Madonna, tu dici, piange praticamente ogni giorno. Sì, sì sì sì. Dal 5 giugno del 2021. Eh sì, soprattutto di notte piange anche per tutti. Allora, c'è una foto che abbiamo preparato. Sì. La vedo lì. Eccola qui. Eccola qua. È alle mie spalle. Questa è la Madonnina che piange praticamente ogni notte. Questa, sì sì, anche durante il giorno dipende. Non è che sia a bacchetta a comando. Eh beh, certo. Ecco, questa qui era sul monte delle apparizioni e mi ricordo che siamo saliti una sera, eravamo in tre persone e le dissi, oh mio Dio, dico, ma mi sembra che la Madonna stia piangendo, no? Allora abbiamo tirato fuori la nicchia dove era dentro. Allora, effettivamente piangeva molto, piangeva molto, perché io ho chiesto, ho detto, ma perché piangi? Forse ho fatto qualcosa io che magari non andava bene, non si sa mai. No, dice, piango per le sorti del mondo, perché gli uomini non credono, non credono più a nulla. Perché dice, la Sacra Scrittura parla chiaro e voi passate oltre, capisce? E allora, che cosa posso fare? Io non posso fare nulla. Io provo a dirlo, ma dopo ognuno è libero, giustamente, di pensare. C'è Sara Maestri di fronte a Paola. Allora, quello che ci tengo subito a dire, ma sono certa che Paola non è avvezza al salotto televisivo, quindi quello che dirò non è per criticare, ma bisogna stare molto attenti, no? Allora hai detto, quando la Madonna mi ha detto che verrà il coronavirus, poi quando si è avverato, io ci sono quasi rimasta male, no? Allora, beati quelli che vedranno e crederanno, ma beati coloro che addirittura non vedranno e crederanno. Tu l'hai vista, te l'ha detto e ci sei rimasta male quando sei realizzato. Almeno tu che la vedi, credici, giusto in quello che diciamo. Allora, io penso... Ma dicelo, dicelo prima! Pare che l'abbia detto Alessandro, non lo so, ha detto che in una trasmissione, l'ha detto anni fa, se me lo confermi, che pare che già vent'anni fa l'avesse detto in una trasmissione, io non lo so, non lo posso comprovare. Vent'anni fa c'erano altre pestilenze! E non lo so, io quello che posso dire è che, almeno la mia posizione, penso che ogni credente può aprire un dialogo diretto sia con la Trinità che con... Cioè la fede ti fa parlare con la Divinità e la nostra religione ce lo dice chiaramente nella parola che è la cosa tangibile che possiamo toccare. Nel Vangelo di Giovanni dice che uno mi ama, rispetterà la mia parola... Scusa, vienimi di corsa, per favore! Aspetta che Paolo Broso... No, no, c'è Paolo aperto con il microfono, chiudiamo Paolo... Quando uno mi ama, osserverà la mia parola. Noi verremo presso di lui, io e il mio padre, lo ameremo, verremo presso di lui, il Paraclito vi dirà. Quindi già ognuno di noi può dialogare con la Sant'Evola. Voglio sentire Odifreddi, Odifreddi, da uomo di scienza, alla fine di questo primo giro di talk, che idea si è fatta comunque, che idea ha in generale di questi fenomeni? Ma sono fenomeni che si conoscono da sempre, per esempio oggi si vedono le statue della Madonna piangere, però ci raccontano già agli antichi romani che piangevano anche le loro di statue. E quindi se uno dovesse credere che dietro c'è qualcosa di trascendentale, dovrebbe crederlo anche appunto per la religione romana, per esempio. Per quanto riguarda le epidemie, basta leggere Tucidide o Lucrezio, si è sempre saputo che tra l'altro le epidemie arrivano dall'Oriente, in particolare appunto dalla Cina. Questa non è affatto la prima, forse a noi può sembrare così, perché ci siamo distratti per migliaia di anni. Ma in realtà sono sempre arrivate di lì, tra l'altro questa è la cosa veramente interessante. Come mai ci siano delle condizioni che ovviamente non hanno nulla a che vedere con la Cina moderna, come invece noi oggi pensiamo, per esempio i mercati di animali e così via. Perché appunto già migliaia di anni fa in realtà è di lì che partivano, quindi ci devono essere delle condizioni particolarmente favorevoli per le epidemie. E poi una volta si trasferivano ovviamente al ritmo delle comunicazioni di allora, per arrivare dalla Cina fino in Europa, ci passavano anni, quando non decenni o quando secoli, quindi qualcuno non ci arrivava mai. Oggi con il rimescolamento naturalmente dei viaggi che noi facciamo quotidianamente, quando succede qualcosa là, il giorno dopo è anche qua. Quindi da questo punto di vista, cioè io credo che la fede non c'entri proprio nulla, al massimo si può parlare di superstizione che è l'altra faccia della fede. Cioè sono stati citati i Vangeli per esempio, qui si tratta un po' di una caricatura di una caricatura, perché già i miracoli che stanno scritti nei Vangeli sono stati criticati dai teologi. Per esempio i teologi protestanti non ci credono più da 150 anni, sono più che altri cattolici che continuano a credere che bisogna interpretare letteralmente ciò che c'è scritto nel Vangelo. Ma qui è in realtà appunto una caricatura addirittura di ciò che c'è scritto nel Vangelo. Grazie a tutti.